Tutte le partite di vino a denominazione di origine protetta, prima di essere immesse sul mercato con l'indicazione della zona di origine, debbono necessariamente essere sottoposte a un esame chimico-fisico per determinare la rispondenza del vino ai parametri previsti sia dal regolamento europeo che dal disciplinare di produzione. Il laboratorio CATAS è un laboratorio accreditato e autorizzato dal Ministero per le politiche agricole forestali all'emissione di certificati analitici nel settore vitivinicolo, anche per l'esportazione. In particolare, nell'ambito della certificazione di origine protetta, il nostro laboratorio analizza oltre 3.000 vini l'anno. I parametri che sono analizzati sono quelli ovviamente previsti dalla normativa, sono il titolo alcolometrico, cioè il grado alcolico del vino, l'acidità totale e l'acidità volatile, gli zuccheri residui e l'estratto. Inoltre, si determina anche l'anidride solforosa, che è un parametro regolato da normativa europea, il cui valore è importante che sia al di sotto dei limiti, in quanto si tratta di un conservante con un potenziale allergenico. Per eseguire le analisi di laboratorio sui campioni di vino, ci avvaliamo di strumentazione automatizzata. In particolare, l'analizzatore automatico WineScan, che sfrutta l'analisi intrasformata di Fourier, permettendo in questo modo di ottenere molteplici parametri contemporaneamente e quindi ci fornisce una notevole rapidità di analisi. Utilizziamo anche l'analizzatore automatico enzimatico per determinare gli zuccheri residui e per determinare l'anidride solforosa si utilizza un titolatore automatico. Il laboratorio esegue anche analisi ai fini dell'esportazione, quindi con la determinazione di parametri diversi e ulteriori rispetto a quello previsto per la certificazione di origine, a seconda di quanto viene richiesto dal paese importatore. Siamo inoltre in grado di eseguire caratterizzazione di distillati con la determinazione del grado alcolico e del metanolo ed altre sostanze volatili. L'elevata automatizzazione degli strumenti utilizzati ci consente di far fronte in tempi molto rapidi alle richieste dei produttori locali e di garantire quindi un vantaggio competitivo alle aziende della regione.